Siamo tornati al secarta.com Junior con... Aurora, con Sabina. Quanti anni avete? 8 e mezzo, 8 e mezzo. È la prima volta che cantate davanti al pubblico, no? No. No? C'ha cantato dove? Calabria. Calabria, è in un concerto? In un tuo concerto? Sì, comunque. Un tuo concerto, cioè un concerto per Sabina? No. Tipo giovanotti solo, Sabina? Guardi. No, perché chiedevano di cantare. Ah, quindi il karaoke sempre. Ah, ok. E ti hanno applaudito? Tanti? E... Cos'è che ci cantate oggi? Ah, una pistola. Pessoa, una pistola. E che altra canzone? Fate moda. Eh no. Un tappeto di fragole. Aspetta, un tappeto di fragole. Mi giunge il tappeto di fragole. Argo, un biscotto. La notte. Un biscotto di fragole. Un biscotto di fragole. Un biscotto di fragole. Allora, buona prossima. Uh, Cristo! Un biscotto di fragole. Un acronimo. Un biscotto di fragole. Un biscotto di fragole. Un biscotto di fragole. Un cursor di fragole. Un ascensione. Un orgasmo di fragole. La voce del sole, la nostra voce, cose che mi fai, la voce del sole trovare. Ciao, semplicemente ciao, il segno ne fa verde come la speranza, come tutta ancora. Adesso un po' di giù, come la notte, tanto come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il sole respirata, assurro come il te, come il cielo vuoi rimanere. La voce, come il sole trovare. La voce, come il sole respirata, assurro come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il sole respirata, assurro come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il sole respirata, assurro come il desiderio. La voce, come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il desiderio, ma poi si muove in a te. La voce, come il desiderio, ma poi si muove in a te.